Il comune Pelizzano ha partecipato nella primavera del 2022 al bando Borghi finanziato dal Ministero della Cultura e lo abbiamo fatto scommettendo su un borgo, su una frazione del nostro comune, che è quella di Termenago, sulle sue peculiarità e sulle sue caratteristiche, partendo da dei punti di forza che sono degli aspetti storici e artistici che caratterizzano la frazione e di una progettualità che risponde comunque ai bisogni della cittadinanza. Attualmente a Termenago abitano 112 persone, sono famiglie, anziani e che lavorano fuori dalla comunità perché a Termenago esiste una struttura ricettiva molto piccola, tra l'altro nata da poco, ma non ci sono servizi. L'ida più grande che dobbiamo cogliere e che dobbiamo portare avanti in questi anni è quella proprio di far rinascere un borgo partendo da quello che è intangibile, che è la cultura, e affinché questa abbia un impatto invece quello tangibile sull'economia e sul nostro territorio.